Il punteggio adesso è di 2 a 1 Aurier Occhio, cerca l'area di rigore Trossi in mezzo Occhio Vantaggio che comincia a farsi importante Due gol da recuperare ora per gli avversari Jean Met Può far male qui Palla che finisce sul palo Ribalza, attenzione, pericolo Non può sbagliare Può andare La traiettoria verso il centro Pesa un po' in difficoltà qui Non riesce a spazzare L'eviazione Scalcia l'angolo Rooney Ha spazio per andare C'è spazio per andare Bravo qui l'attaccata Attenzione però al pressing Gran tiro Sarà corner A disposizione Pallone Riccardo Rodriguez I compagni si fanno vedere Attenzione Libero Hanno scelto un approccio aggressivo al match Sono stati ripagati Occhio al suo movimento Palla pagante Palla buona per Mertez Si porta la più 2 con questo gol Un margine abbastanza rassicurante Apre sulla fascia Apre sulla fascia Apre sulla fascia In diretta mi era sembrato già Un pallone Il replay mi sembra In confermi Si avvicina all'area Esce Attenzione Sì Cazzo di rigore Beh ma qui secondo me Oltre al rigore Ci stava sicuramente Anche il cartellino Che ne pensi? Non c'è dubbio Ha commesso un fallo Molto duro Forse Un cedere soltanto il rigore Non era abbastanza No 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 Giaic e c'è il gol Balla in rete Gomez, occhio a questo rancio Ci sono metri a disposizione Attenzione pericolo Eh sì, c'è il tocco, c'è l'autogol Allora dire, l'area Dick Steiner Palla rispinta dal difensore Occhio al corno Higuain Calcio l'angolo Higuain Corre, fattuto in me Andre Silva Occhio al pallone in me Higuain Normale amministrazione Alla messa dentro Facile la parata su questo colpo di testa Conclusione troppo debole È un autogol pesantissimo Davvero nel momento peggiore Riccardo Rodriguez A metri per correre Punta la porta Vuole il cross E il pipita Traversa Palla ancora in gioco Ottima la lettura del difensore Che ha capito tutto Conclusione spettacolare Potente Precisa Va Con il possesso palla È tutto solo Attenzione Il pallone è lì Un'altra Attenzione Prova Passano a condurre Col col che cambia inevitabilmente Il tema tattico del match Un'altra buona giocata Tocco profondo per Higuain Tocco interessante per il pipita Attenzione Rete Higuain Ed è Rete Stanno dando spettacolo In questa partita Confermandosi Fra le squadre Sicuramente più calde Verso l'obiettivo Della promozione Mertens Ci sono metri a disposizione Mertens Lo ferma Ma non controlla Mertens Pericolo Ecco il tiro Ed è Rete Interrompe bene l'azione Intercettando il lancio Baragni a metri Verso l'area Sterling Sterling Attenzione Rete Alla messa e mezzo Rassigo Sane Avvio di me Scoppiettante Non siamo nemmeno A metà primo tempo Telealli approvato Dalla lunga distanza Occhio all'errore del portiere Ci sono metri a disposizione Clamorosa Opportunità E il pallone entra Ed è gol Un grande gol Conclusione ravvicinata Non lascia scanto Hanno trovato il gol Nonostante l'inferiorità numerica Bella reazione da parte di questa squadra Decimata dai cartellini rossi Il punteggio adesso è di 2 a 1 Grazie Grazie Grazie